Salve, voglio fare un video molto molto veloce, credo si senta che sono un po' giù perché non sto benissimo Comunque il 29 vi ricordo che esce Scam E niente, io ho aperto un... ho aperto Ho già comprato un server, quindi il 29 sarà online Se volete tanto io ci farò una live, però credo il 30 Visto che uscirà verso le 7 il gioco Però comunque se vi interessa ho fatto questo server, poi rilascerò l'IP, lo metterò su Discord, su Facebook, su Telegram Tanto in descrizione trovate tutto Quindi se vi interessa niente, io spero che in tanti italiani lo prendano E che in tanti italiani ci ritroveremo in quel server per avere un'esperienza molto più bella di gioco Visto che non tutti capiscono l'inglese e niente, possiamo andare di RP puro E niente, 40 secondi di video sono i top per spiegare queste cose E noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti